e ma armi viola vuol dire che scusami c'è non possiamo vedere nessuno fino a quando non mettiamo un'arma viola è difficilissimo però l'ultimo drop vogliamo già anticiparci sto pensando infatti e farmiamo tanto possiamo anticiparla ma se facciamo la challenge oro non abbiamo praticamente scudo a cure non ce ne sono ma ancora spara bene no niente c'è uno c'è uno c'è uno covrami covrami ti faccio lo spasso arco l'arco l'arco te l'ho detto e tipo metti la cannuccia dentro no no non quelli di cartone piccolini quadrati acqua di cartone di cartone si mangiati poi ma come parlo vabbè comunque scusami io ero è blu però lo prendo me lo puoi credo perdonami ah si la puoi fare si allora due ore è blu in caso vogliamo due scar dobbiamo comunque fermare 150 ma vedi che comunque comunque c'è gente quindi appena io lo vissi andare tutti a ovest eh ti chiedo vabbè stanno nel lato dove dobbiamo pregridare le armi allora si scusami no volevo urarmi allora è perfetto busciare perché la il volt c'è tutto via epico ah ma tutti ci sono arrivati fino al volt eh si la sono andati io non l'ho vista slurpy ok si ha senso senso tieni un r tu vai pompa tu vai pompa scarre ricordi quando la iniziamo ah ma era che ho trovato scaroro e non la puoi usare ah ah vogliamo già anticiparci la roba ora sto pensando infatti se farmiamo tanto possiamo anticiparla sto pensando intanto portare il c5 vediamo quanta roba oro e viola troviamo poi ci decidiamo perché con la oro sarà impossibile la oro è difficilissima ma se troviamo tante armi oro facciamo la oro perché quando ci ricapita slurpy no loot abbiamo ma non è nella vita mi faccio un attimo lo scaroro allora ok giochiamo con le armi oro facciamo oro? hai sparato tu? ah no no è uno snap eh si è buono ma ha portato ma ha portato le c4 minca quanti mazzi ha portato o fra quindi oro confermata oro eh si passano un po' di mazzi ma come fa ad avere tutti i materiali vabbè no aspetta mi ha dato tipo così mi ha dato eh questo è quello che mi ha dato letteralmente ma era comunque buono io ho da farmi lo spasso sulle armi anche alla fine una volta fatte l'armi e lo scar non ci serve più niente poi magari non possiamo usare nulla neanche l'utilitist ma pure basta perderebbe perderebbe un pump blu o viola ah anche tu solo lo scar questo è lo scar io ho da massimo del pump verde non di più poi qua non lo ho detto ho un lama è vero c'ho un lama aspetta aspetta vediamo ma l'hai già ammazzato? sta qua ammazzato arrivo arrivo vai vai in senso per l'istat per vedere quanto siamo ignoranti al sud rispetto al nord devo buttare il pad capito? si si e quindi io voglio aumentare il dato ignoranza oh è in safe a pantano cioè è proprio la partita nostra no c'è uno c'è uno c'è uno cover mi cover mi faccio lo spasso ah con l'arco te l'ho detto dopo vado a curare avrà io lo spasso tutta tutta una terra rotto rotto sopra fuori ha messo il pad potevamo usare questi sono altri caccato bianco rotto ok me vado a curare non è male che ti ha fatto subito lo spasso mo l'obiettivo è non vendere danni è un problema ho sentito dentro dentro c'è un player dentro qui dentro? si 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 l'ho sentito sarà lui allora si ma sarà camperato perché non fa più passi ecco abilato sul ovest sul mio ovest sta spaccando qualcosa il mattone si qua dentro guarda me appadano altri attenta morto non era lui però no c'è la cappa mitico dai ma che figa che skin ha? che skin ha? la renna morto quanto ha fatto? barretta ora buono 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 eh ma non solo o sbaglio? quello si perché siamo in sette 150 sette devo farmi navigare questa no? ho fatto un full body quello fuori safe o questa qua? no no questa qua 150 sette a questo vai tu vai io lasero reloado la fanno ancora la c'è la c'è la c'è la c'è la c'è a terra ok dobbiamo mantenere il like perché questi qua arrivano da un bump a fucile e oro ma non mi serve voglio la scarpa qualcuno qui sotto qualcuno qua c'è per forza lo so sicuro alla tombica mitica si è fatto 36 viola viola io sto in high eh viva vale credo 10 un altro spazzore non c'è l'ultimo dai comunque avremmo avuto a cappa mitico e tombica mitica ma ti rendi conto? eh però dove di ucciderli prima di averle capito è difficile fare una risposta ah eh beh hai ragione hai ragione già sto tipo è impossibile ah ragazzi challenge con il primo try attenzione ma sto sperando ma ste mine quindi allora uso le mine solo per vedere cosa fanno non voglio non voglio cioè ma secondo me fanno 50 di danno io prima mi sono tolto 50 si 50 c'è scritto vabbè non voglio usare dai nel bus secondo me non posso può darsi però è free safe no niente sono e non sa regina dei ghiacci c'era l'inferno c'è 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 Una challenge dell'armi viola invece l'abbiamo trasformata in challenge leggendaria Perché ci conveniva obiettivamente Poi pure il lama Super succosetto Grazie